Con l'ingegnere Mirabella parliamo degli aspetti economici, dei risparmi economici della ricerca e dell'utilizzo dei droni. Sì, il risparmio economico è determinato dal fatto che il drone sostituisce in genere o un velivolo o nel caso dei droni marini e sottomarini un'imbarcazione o addirittura un droneggibile. Ora è chiaro che il costo di un volo come il costo di una discesa a mare di un sottomarino o anche solo di un'imbarcazione è molto diverso. Pensiamo per esempio a tutte le applicazioni di surveying, cioè di sorveglianza del territorio. Se questa sorveglianza o il rilievo anche del territorio viene fatta attraverso un aereo e i costi di un volo sono assolutamente non paragonabili con quelli del costo di un volo di un drone. E quindi l'aspetto economico è immediatamente rilevante. Ecco perché in particolare nel campo aereo, negli impieghi di agricoltura, surveying e manutenzione di apparati come gli impianti fotovoltaici, sia di tipo pannello solare sia di tipo eolico, con i droni sono diventati molto più convenienti.